tolgo dal sole e buongiorno avventurosi siamo oggi siamo in Friuli Venezia Giulia siamo nel comune dei tramonti di sotto e specialità andiamo a scoprire due paesi fantasma spersi nel bosco seguitemi special guest special star come si dice c'è Gabriele l'avete già visto su qualche video si sta preparando Zaino e via andiamo a fare questa avventura andiamo a scoprire questi due paesi il paese del Tamar e il paese del Paikoda abbandonati e nel bosco andiamo a vedere come va oggi abbiamo parcheggiato vi lascio le indicazioni qua come al solito bisogna fare una stradina asfaltata da tramonti di sotto prendete la destra fate sta stradina qua asfaltata e arrivate fino alla sbarra e la bisogna trovare un attimino un posto in parte dove parcheggiare da qui inizia il nostro la nostra avventura allora questa è la partenza del sentiero dalla sbarra ci vediamo alla stradina il programma di oggi allora da qui la prima meta penso sia Tamar dopo da Tamar si va giù si scende sul torrente si fa un po' dei guadi e si arriva a una cascata dalla cascata dobbiamo andare a Paikoda Paikoda si torna un po' sui nostri passi e dovremo arrivare a Vuark c'è una villa abbandonata sempre antica e poi si chiude l'anello in teoria un 8 chilometri circa ecco qua facciamo subito un bel guadetto semplice semplice e come dicono indicazioni appena dopo il guado si segue per Tamar tre quarti d'ora ci da super sentiero mentre dobbiamo chiudere l'anello da questa strada qui torneremo indietro allora la prima parte del sentiero per andare a Tamar si svolge veramente un bel sentierino per il bosco molto molto carino fatto un po' a zig zag com'è Gabriele che facile è vero 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 Iniziamo a trovare un po' di civiltà Un po' di muretti a secco del vecchio sentiero Ed ecco avventurosi la prima casa che troviamo inghiottita dal bosco E qui siamo proprio alle porte di Tamar C'è un piccolo sentierino che è una figata Lì in fondo vedo le prime abitazioni Il borgo del Tamar era nell'antichità un villaggio Diciamo un villaggio pastorale Mentre è diventato un villaggio vero e proprio intorno al 1600 So che all'interno di Tamar hanno messo a posto una struttura L'hanno fatto a moda il bivacco Ti ricordi il nome di questo bivacco? Varnerin Bivacco Varnerin Ora andiamo a curiosare come al solito Ma che robetta C'è una pace qua Mamma ragazzi Ti rilassi tantissimo Bellissimo Ma che bello Ed ecco qua il bivacco Varnerin Varnerin Nooo Guarda qua che chicchetta Guarda venite a vedere Ma che bello qua Sembra abitato o no Però il caminetto là La porta questa è chiusa a chiave E questo invece è il bivaccone Il bivaccato Mamma mia ragazzi Che bello Che bello Che bello Appena finito di raccontare che non vorrei dormire qui Sì Perché Perché Essendo un borgo Fantasma Ho paura della notte dei fantasmi Me li credo Vado a vedere sopra Si crede a non salire con le scarpe Aspetta Vado a vedere un attimo mi incastro con il zaino Ma è messo in castra con il zaino E qua ci sono Due Due Quattro Sei Sei posti letto Ma che bello Ma che bello C'è una Una stufa a legna Economica Quella economica Ma una figata Però Avevo letto da qualche parte Che Ah sì Ecco qua Ecco Allora C'è un regolamento Allora Qua c'è scritto Che il pernottamento Prevede il versamento di un contributo di 5 euro a persona Dunque Ci sarà Boh Una cassetta Da qualche parte Dove Forse Dove Forse Dove Forse Dove metti I 5 euro Mi sembra giusto così Guarda 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 Qua I resti Wow Bellissimo E qui Se piove Sotto la pergola Puoi mangiare tranquillamente Ho un pozzo Ah ma è chiuso Ha chiuso C'era un altro C'era un altro Più giù Bello Bellissimo Adesso mi metto là E faccio la Prima colazione Mi ha fatto fame sto posto Ah sì Ed ora andiamo verso il torrente E la cascata Ora seguiamo per Palcola Ora ci tuffiamo dentro La vegetazione Tutto ben segnato Ben Ben Segnalato Qualche roba qua Dentro la vegetazione Fino Ad arrivare giù Al torrente Cerso Carso Qualcosa del genere Che Dalle indicazioni che ho Bisogna guadarlo Diverse volte E lì bisogna vedere Quanta acqua c'è Vediamo Vediamo Eccoci qua al torrente Devo dire che Se viene giù Abbastanza Impicchiata Tutti Tornantini In mezzo Tutta la vegetazione Bella folta Sovi che passa Poca gente Ed eccoci qua Giù al torrente Ma che roba Peccato che non batta il sole Ma Fantastico Ed ora dobbiamo risalire Il torrente Stando attenti Un po' Le indicazioni Fare un po' De guadi Lì L'acqua Non mi sembra che ne sia tanta Comunque adesso Vediamo come fare E si risale Fino Alla cascata Guarda qua Bello no? Sì Ti piace? Un bel paradiso Se buttesse il sole Qua sarebbe da fare il bagno Un po' 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 Grazie a tutti. Secondo guado fatto. Qui il sentiero è un pochino esposto ma niente di che facciamo un po' di attenzione e si prosegue sempre dritto. Scenario fantastico. Bisogna fare attenzione a non perdere i punti di guado dunque occhi aperti. Grazie. Buon dar? Buon dar? Ora è da capire se la cascata è dentro quella gola lì oppure dentro di là. Allora sembrerebbe che la cascata fosse dopo questa questa gola qui però è parecchio fonda. A nuoto? A nuoto no, non posso andare a nuoto. Allora spero che tornando su per il sentiero che si va verso Paikoda forse dopo ci si ricongiunge la cascata. Facciamo questa prova altrimenti niente cascata ragazzi. Proviamo. Stiamo seguendo le indicazioni Paikoda che è veramente scritto dappertutto e guardate che balcone panoramico che ho trovato. Fantastico. Buon darmo. Buon darmo. Mamma mia se cado qua eh o imparo a volare o se no. Ciao ciao. Siamo saliti una cinquantina di metri no almeno sarà stato 30 metri per bypassare quell'orido che sennò bisognava andare a nuoto. Siamo discesi se continua a seguire le indicazioni per Paikoda. Ora arriviamo a un bivio dove dritto seguiamo il torrente e andiamo a vedere la cascata Pisulat. si va dritto di qua. Poi una volta vista la cascata bisogna ritornare indietro fare il guado e si va su a Paikoda per di là. Siamo arrivati alla cascata sono pieno di ragnatelle dappertutto. Non è stato proprio semplice semplice arrivarsi. Sì è un po' troppo scivoloso ma guarda che figata guarda che bello. che spettacolo. Per i più coraggiosi sarebbe da fare un bagnetto qua. Comunque è bellissimo. Adesso torniamo indietro e risaliamo a Paikoda. Allora siamo tornati indietro sui nostri passi dalla cascata. Saranno circa un 300 metri occhio e croce. Facciamo l'ultimo guado e attraversiamo in mezzo gli omini di pietra e andiamo su a Paikoda. Sarà con 150 di dislivello arrivare su a Paikoda. E lì pausa papa. Eccoci arrivati siamo alle porte di Paikoda. La chiesa è stata abbandonata nel 1923. L'ultimo abitante, se non sbaglio una signora, una anziana, ha abbandonato il paese nel 1923. Quella chiesa è stata ristrutturata nel 2011 e è un rito venire qua e suonare la campana. Anche questo burgo è bello antico. Fate conto che i primi insediamenti si riscontrano dal 400. Mentre i primi abitanti vennero abitata nel XII secolo. Dovinate per cosa era la famosa Paikoda al tempo? Era famosa perché fabbricavano i cappelli di paglia e, strano da vero, li esportavano fino ad arrivare all'Europa del Nord. Per questo era la famosa Paikoda, per i cappelli di paglia. Laggiù c'è un altro bivacchetto che poi andremo a mangiare lì. Mangiamo sta chiesa. Grazie. 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 Ci sono ancora i numeri. 234 lì. Numero civici. Siamo ancora un po' più avanti. Guarda come il bosco si riappropria dei propri territori. Incredibile. Guarda qua. Ci sono altre costruzioni qua. Tutte amalgamate per il bosco. Guarda che roba. Guarda quante. Guarda qua. Guarda qua. È talmente bello ma anche tanto surreale trovarsi in mezzo al bosco, una realtà così mista tra il tetro e l'affascinante ci fermiamo un attimo facciamo pausa pranzo che è mezzogiorno giusto e poi iniziamo e rientro andiamo a vedere questo bivaco qua una tavola la stufa volendo se ne poco ma ci sono due letti a castello vabbè ragazzi mangiamo e ci riposiamo allora dopo un bello spuntino un bel spuntino cominciamo a ritornare indietro e vediamo se riusciamo andare fino al borgo de voir se il tempo tiene andiamo a visitare voir e dopo un lungo lunghissimo traversone che non molla mai in effetti tira un po questo pezzettino ma è l'ultimo ve lo prometto è l'ultimo una piccola deviazione saliamo a voir dove c'è la famosa villa di voir è una villa antica anche questa è che si è persa per il bosco ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato nessuna nozione l'unica cosa che ho letto è che ci sono 11 archi eccola qua gigantesca quello che resta di questa villa è solo questa facciata qui questo è proprio tutto dirocato al massimo vabbè torniamo sul sentiero principale e andiamo verso la macchina ormai siamo agli sgoccioli con l'escursione eccoci arrivati alla conclusione ecco dove siamo partiti questa mattina che come vi dicevo siamo andati su Atamar e siamo scesi da palco da di qua spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto mettete un bel like e sentiamo a caldo l'impressione di Gabriele come è stato questo giro bellissimo stupendo questo giro è andato bene però ti è piaciuto lo rifacciamo subito no no subito a te è piaciuto certo ragazzi e con questo alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao